Ci troviamo presso la pineta comunale di La Terza. Devo dire che non conoscevo questa realtà, certamente bella sotto l'aspetto, diciamo così, paesaggistico, ma davvero si distingue per un degrado impressionante. Mi sono documentato, questa pineta è stata oggetto di, ha ricevuto dei finanziamenti regionali, ma da quando sarebbe dovuta, come dire, partire in pompa magna nel maggio 2016, da quella data ad oggi non si è mosso nulla, non c'è stata l'inaugurazione e il degrado, come dire, regna sovrano, erbacce, giochi, strumentazioni per le attività sportive abbandonate a se stesse, insomma, è completamente, assolutamente non gestita, con rischi anche ovviamente per chi la frequenta, anche per ragioni igieniche, vista l'erbaccia che c'è. Di tutto questo vogliamo parlare con Agostino Perrone, detto Costantino, che in questa tornata elettorale è candidato sia al Consiglio Comunale di La Terza e sia al Consiglio della Regione Puglia con Fratelli d'Italia. Ma che dire, Costantino, è una situazione davvero inimmaginabile, cioè dal 2016 a oggi, se la matematica non è un'opinione, sono trascorsi 4 anni, 4 anni di nulla? 4 anni, sì. Questo è un progetto che viene chiamato il Parco Avventura, che si sono spesi dei soldi pubblici e nel 2016, prima di insediarsi nel secondo mandato di questa amministrazione europane, ha investito questi, ha sfruttato questi finanziamenti, ma non sono stati mai, diciamo, sfruttati, nel senso che alla consegna del lavoro finito di questa bellissima cosa che abbiamo avuto la possibilità alla terza, nella nostra pineta, non è stato neanche inaugurato. Cioè, se vedete, ci facciamo un giro, vedete il degrado della pineta e nello stesso tempo questo imbiante è andato a finire proprio tutto spezzato. Ci sono, dicevo, delle strumentazioni, degli attrezzi, no? Che potevano servire per fare attività fisica per i giovani, per i ragazzi e i meno giovani, ma anche un luogo così, dove tanti anziani potrebbero avere la possibilità di stare, come dire, all'aria aperta, a contatto diretto con la natura e invece la situazione è versa in uno stato di decozione assoluta. La cosa che fa male è che non sono riusciti neanche a fare l'inaugurazione, ma hanno avuto anche 4 anni di tempo. Cioè, in questi 4 anni è andato sempre, diciamo, a peggiorare. Ed è un peccato che si sono sfruttati questi finanziamenti, questi soldi pubblici, soldi nostri, e diciamo che vedete voi stessi le condizioni di questo impianto. Ma non è solo questo, diciamo, il degrado, diciamo, oppure i finanziamenti sfruttati hanno trascurato ogni cosa, diciamo. No, ripeto, oltretutto è davvero un peccato perché, come dicevo poc'anzi, si fa tanto, si parla tanto di ambiente, di trovare delle oasi, dei polmoni verdi e poi quando ci sono che facciamo, le abbandoniamo, le dimentichiamo? Sì, oltre a questo impianto, noi alla terza abbiamo anche l'OASI LIPU, Cambergrand, dove si è fatto, ci sono i contenziosi in corso, dove hanno consegnata a una cooperativa, un'associazione, non ricordo bene, che anche se l'hanno consegnata 3 anni fa, ma non è stato neanche utilizzato perché hanno sbagliato proprio la progettazione sull'impianto etrico. Quindi, tornando a questa pineta, veramente ci sarebbe innanzitutto da bonificarla, vediamo qui il terreno è completamente dissestato, ma, ripeto, c'è il problema delle erbacce, insomma, un bel lavoraccio e poi, oltretutto, dovrebbe essere gestita, data in gestione, perché la manutenzione non deve essere un qualcosa così di estemporaneo, ma deve essere un qualcosa di programmato che puntualmente deve esserci chi la cura, chi la controlla. Sì, ripeto, anche sull'OASI LIPU è stato fatto e affidato un sito come questo, però non è stato mai utilizzato, altri soldi e altri finanziamenti anche lì, e soldi anche comunali. E stiamo sempre, diciamo, è la stessa cosa di questo impianto. A questo punto lei auspica che il prossimo sindaco, ovviamente Fratelli d'Italia, fa parte della coalizione di centrodestra e sostiene il dottor Cefalo, beh, una nuova amministrazione, una volta insediatasi, prenda di petto questa situazione. Io invito il sindaco che sarà, perché oggi non si può sapere, che sia più attento almeno sui finanziamenti, sui soldi pubblici, sfruttarli al massimo e utilizzarli adeguatamente, almeno quello.